Buongiorno ragazzi, stiamo andando sulla matrice, verso il lago, è una grande avventura, oppure l'inizio di una bruttissima avventura. Verso la mezzanotte, saremo attaccati dai lupi, io e Matteo, date che siamo due maschi alfa, difenderemo le nostre donzelle, che scapperanno ovviamente. Vediamo se riusciamo a fare anche alcune frecce, bella mangiata di lupo, ok, un cinghiale, dunque le aspettative sono positive. Il countryman, la guidatrice. Sì, dove sta andando questa avventura? Guardi, è abbastanza bene. Era confortevole. Molto. Donna, va bene il caffè. Eh, ma sono già state. Svegliatemi domani mattina, quanto ce ne vogliamo andare? Mamma mia, stanno andando a giocare a couch, guarda. Svegliate le mie passettine. Matteo ha sbagliato la macchina, ragazzi, che voglio dire. Com'era l'esperienza della macchina nuova, Matteo? Bella, molto bella, aveva un odore diverso. Buono! Avevano le coperte sui sedili, non ci abbiamo pensato a mettere. Adesso vi porterò in posto, stupendo, perché si vede un lago famosissimo, dove ci sono le squalie lunghi 20 metri. E' il bosco, si chiama Bosco dei Funghi Magici. Ok. Dove una volta che tu ci entri, vedi anche dinosauri. Chi siete? Esseri che vivono sui monti. Ok, le montanare queste sono. Attenzione però che ogni tanto possono mordere. Ma questo è uno sviluppo che c'è stato, un salto di generazione. Ok. Lo so che non capite ciò che sta dicendo, non vi traduco. Probabilmente ha detto, noi... Questo? Io devo pisciare. Lei che lingua parla? Ah, ok. La lingua delle pisciare. Ma cosa ha sulla maglietta? Seminario. Gli occhi del contino. ? E io già chiede una signata Dio dame forza che già mi vorrei rendire Dio dame forza che sento che io già perdite E no, 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 no Non sapo a dove vieni Sigo parato esperando a que ella diga algo E no, 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 no Non sapo a dove vieni Dio dame un giorno che mi vorrei Preghiamo il Dio fuoco Questo fuoco riscalda molto E secondo me è perché è stato fatto con l'amore e il bene reciproco E quindi Andrea e Matteo si sono impegnati molto Sara hai paura Molta paura E vabbè Non ti scottare Diciamo che questo qua è una specie di test Da vedere se in futuro possiamo fare più di questi viaggetti in diversi luoghi più belli, più interessanti, più carini Possibilmente non con la mia macchina Possibilmente non con la mia macchina No, questa volta andremo con la mia e con la di Matteo Ok Ma come sto bene qua Matteo ha detto io sto bene così deve finire là il video Però cicci Grazie a tutti